benvenuti a una nuova puntata di mountain blog odore ambiente io sono Mirko Soggiu e con me oggi c'è Filippo Thiery metrologo e ospite fisso delle rubriche di Geo & Geo ciao Mirko buongiorno buongiorno a tutti è un piacere essere qui senti partiamo dal principio che non vogliamo fare previsioni da stregoni e nemmeno a tirare click con nomi di fenomeni fantasiosi oggi vorrei farti alcune domande un po sulla situazione meteorologica in cui ci troviamo che sembrerebbe un po particolare ma questo poi ce lo dirai tu stiamo assistendo a un inverno povero di precipitazioni per quanto riguarda perlomeno il nord Italia sempre sul versante sud delle Alpi ma non è la prima volta che accade questa cosa ci dobbiamo aspettare altri inverni così cosa che sta succedendo cominciamo a dire che i tre mesi invernali su gran parte delle località italiane a maggior ragione su quelle del nord Italia e dell'arco alpino sono climaticamente i tre mesi più avari di precipitazioni dicembre gennaio febbraio sono quelli in cui le precipitazioni sono meno abbondanti rispetto al resto del ciclo annuale dalla primavera all'autunno passando per l'estate e quindi come dire non sono mesi in cui aspettarci grandi precipitazioni ciò non toglie che veniamo da una fase di diverse settimane l'insegna della penuglia completa di precipitazioni quindi di un deficit oggettivo rispetto all'atteso se la gran parte delle località del nord a gennaio ci aspettiamo tra i 25 50 mm di pioggia ne abbiamo avuti zero in molte in molte località pioggia alle quote inferiori e neve chiaramente alle quote più alte questo perché abbiamo avuto per lunghi tempi già dalla fine di dicembre di nuovo in questo mese di gennaio l'affermazione di un campo anticiclonico che anch'esso è una figura abbastanza tipica del partner atmosferico invernale ma ha persistito per parecchi giorni di fila quando sono passate delle perturbazioni come anche in questi ultimissimi giorni si sono presentati con flussi settentrionali molto intensi che hanno addensato nubi e precipitazioni sul versante estero delle alpi e lasciando invece venti di fenne come sappiamo secchi anche piuttosto miti sul versante italiano invece quella perturbazione si è ripresentata sulla sul centro sud aggirando le alpi dalla porta del rodano o della o della bora quindi le piogge anche le nevicate a volte a quote basse hanno riguardato paradossalmente più la puglia che che le alpi cosa dobbiamo aspettarci negli inverni futuri come dire gli scenari di cambiamenti climatici sono conclamati evidenti li conosciamo sappiamo che il progressivo e probabile rallentamento della corrente a getto dovuto al fatto che le zone artiche si stanno scaldando molto più di quelle delle medie latitudini di regole tropicali potrebbe portare a maggiore persistenza di situazioni di blocco cioè quelle in cui i grandi campi di alta pressione le grandi depressioni persistono più tempo sulle stesse zone quindi ci possono essere zone in cui precipita più del normale e arrivano magari colate di aria più fredda del normale e zone in cui invece c'è l'anomalia di segno opposto come sta accadendo in questo momento in questo momento in italia. Tu parli di queste correnti quindi parli della circolazione generale atmosferica che sta pian pianino cambiando ma immagino che non sia mai sempre stata la stessa ci sono già stati inverni con questa configurazione? Allora ci sono stati inverni sì e diciamo che nell'ultimo ventennio sicuramente abbiamo segnali di penuria di precipitazioni e di temperature più calde della norma nella stagione invernale percentuali più alte che in passato per il discorso che facevo prima sul cambiamento climatico che è già evidente non è più soltanto uno scenario di proiezione futura purtroppo. Questo campo ad alta pressione che abbiamo adesso è della stessa tipo di matrice di quello che troviamo d'estate? Nel campo anticiclonico i campi di alta pressione sono sostanzialmente sempre sempre gli stessi cioè o quello di matrice azzurriana quindi che dall'Atlantico si propende verso le longitudini europee del continente o quello nord africano che porta aria particolarmente mite e temperata dal punto del continente africano sul Mediterraneo fino a volte all'Europa centro-settentrionale o quello russo-siberiano che ha legato più a una configurazione invernale cioè di tipo termico. Quello che cambia tra l'alta pressione invernale e quella estiva è soprattutto le condizioni di inversione termica che nella stagione autunnale e maggiori giorni invernali avvengono perché l'aria è ovviamente più fredda che d'estate e quindi in situazioni di compressione anticiclonica ristagna nelle conte, nelle valide, nelle situazioni orograficamente depresse dal luogo alla formazione di nebbie, di nubi basse e comunque spesso indipendentemente se si formino meno le nubi e le nebbie appunto all'inversione termica che porta aria molto mite in quota e invece soprattutto nelle ore notturne del primo mattino aria fredda ristagnare in basso quindi paradossalmente ma è un apparente paradosso, la temperatura è molto più fredda in pianura padana che non sulle Dolomiti o sulle Alpi. Questo è uno dei motivi per cui se abbiamo un inverno con questi anticiclone così duraturo ci troviamo che sulle Alpi oltre a non nevicare fa anche più caldo? Assolutamente, assolutamente perché sono appunto condizioni di anomalia più spiccata in inverno ma proprio perché in estate il meccanismo dell'inversione termica o non si realizza o si realizza in maniera molto meno efficiente e molto meno diffusa e più legata a caratteristiche locali e più momentane. Ci saranno più lunghi quindi questi inverni secchi nei prossimi diciamo 10-20 anni? Quello che possiamo dire sicuramente è che essendo il clima per definizione la media su un periodo statisticamente significativo, diciamo almeno un trentennio della storia meteorologica di una località o di una regione, se il clima non fosse mutato e non stesse mutando dovremmo avere percentualmente un numero di inverni più freddi della norma pari a quelli percentualmente degli inverni più caldi della norma. Invece il clima mutato ci dice che percentualmente peseranno sempre di più e già stanno pesando di più da una ventina d'anni a questa parte, inverni più caldi o molto più caldi rispetto a quelli più freddi o molto più freddi. Questo non vuol dire che questi ultimi non ci siano o non ci saranno più ma semplicemente che saranno statisticamente sempre meno rilevanti mentre andranno a predominare quelli con anomalie di segno positivo. Poi spesso e volentieri inverno mite e inverno con precipitazioni abbondante coincidono perché sappiamo che sulle Alpi le precipitazioni abbondanti le portano le perturbazioni con correnti dai quadranti meridionali, libecciate o sciroccate che vanno ad addensare nubi e precipitazioni sul versante italiano della barriera alpina quindi spesso correnti molto miti come appunto quelle sciroccali però portano anche precipitazioni molto abbondanti che però in questi inverni perturbati ma anche molto miti sono nevosi ovviamente soltanto a quote alte magari capitano stagioni inverni molto piovosi con neve che però riesce a cadere solo dai 1500 metri in su con spessori magari record si sono registrati ultimamente anche inverni con 3-4 metri di neve se non di più su molte zone delle Alpi ma soltanto alle quote più alte questo sappiamo che è un disastro dal punto di vista dell'equilibrio dell'ecosistema perché la neve nei mesi invernali alle nostre latitudini ci deve stare anche alle quote più basse. Senti io lo so che un meteorologo non azzarda previsioni a più di tre giorni quindi ci puoi dare un'idea di questo inverno insomma in uno specifico di questo inverno se ci sarà comunque ci sarà sicuramente prima o poi un cambiamento ma questo più o meno quanto potrà avvenire e su base di quali dati puoi fare una previsione diciamo così a lungo termine? Certamente non avrà breve sulla scadenza da qui a una settimana al momento si profila un nuovo regime di alta pressione piuttosto massiccio e qui siamo sulla predecibilità a breve e medio termine che possiamo così esplorare dal punto di vista meteorologico se ci sarà prima o poi un cambiamento la compensazione in meteorologia non esiste soprattutto alla scala locale o nazionale cioè non è detto che siccome veniamo da un mese di precipitazioni assenti su molte zone del nord allora poi avremo un mese di febbraio o di marzo con più precipitazioni perché appunto non vale legge di compensazione Vuoi dare un qualche consiglio su come leggere le previsioni ai nostri lettori? Ma io il consiglio che do sempre è quello di far finta di essere dal medico cioè nessuno di noi portando delle analisi delle lastre, delle risonanze qualsiasi tipo di indagine oggettiva sul proprio fisico si accontenterebbe di vedere una previsione in forma grafica o magari ridotta a un'icona o a un numerino vuole che lo specialista gli esprima la diagnosi e a maggior ragione la prognosi e gli dedichi più tempo possibile più la situazione magari è complessa perché riguarda non un banale raffreddore ma magari un quadro patologico più importante e più siamo contenti di leggere o di ascoltare una diagnosi, una prognosi approfondita e lunga e siamo disposti a dedicare molti minuti della nostra giornata a cercare di capire quello che abbiamo e soprattutto come possiamo migliorare ecco, la previsione meteorologica è la stessa identica cosa perché parliamo di un sistema complesso l'atmosfera quanto l'organismo umano per cui non accontentiamoci mai di leggere quei prodotti automatici perché il più delle volte sono output numerici e automatici quelli che vengono così poi forniti dalle app dai siti di ampia fruizione ma spendiamo dei minuti per leggere previsioni testuali o ascoltare previsioni esposte verbalmente da specialisti della materia possibilmente essendo sicuri della qualifica con cui si pongono nel diramare i loro bollettini meteorologici quindi un buon motivo per seguire come te i meteorologi professionisti cosa posso aggiungere al dettaglio cioè perché su perturbazioni a grande scala si riescono a dare degli elementi sia sulle aree colpite che sulla tempistica dei fenomeni se sarà il tempo più perturbato al mattino o al pomeriggio ma sui classici fenomeni che becchiamo in montagna soprattutto nella stagione non solo estiva spesso anche nelle mezze stagioni cioè quelli temporali che si è impossibile sapere a che ora ci sarà il temporale o se prenderà la cima su cui siamo o magari la valle a fianco e noi non possiamo pretendere di fare pianificazioni di escursioni o di ferrate, di scalate sulla base di dettagli di questo tipo dobbiamo accontentarci di sapere che magari domani sarà una giornata a rischio temporale su quella zona delle Alpi allora se abbiamo in preventivo un'escursione un'ascensione in zone molto esposte per esempio ai fulmini è il caso di rimandare Senti Filippo io ti ringrazio del tempo che ci hai concesso sei stato veramente molto dettagliato nelle informazioni che ci hai dato ci sentiremo ancora magari per parlare magari di clima delle Alpi o anche di altre informazioni interessanti che riguardano la nostra atmosfera insomma il clima che sta cambiando molto volentieri intanto vi ringrazio ringrazio io per lo spazio e per l'occasione insomma di fare delle informazioni su tematiche importanti grazie ancora ciao Filippo grazie amico grazie tanto e a presto io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima puntata di il podcast outdoor ambiente di Mountainblog e vi ricordo sempre che sul nostro sito trovate approfondimenti e altri articoli legati al mondo della montagna e a presto alla prossima puntata